Ciao, sono Alberto. Quello che mi ha trasmesso questa giornata è stata la vera e propria consapevolezza di una liberazione, di andare avanti, ma soprattutto capire, avere la certezza e la conferma che tutti gli strumenti che ho li devo mettere in pratica. Quindi vai, vai, sentiti libero di andare perché sei nel giusto. Perfetto, grazie.